Il turismo può diventare una risorsa economica per Trieste? Sicuramente sì, a patto di collaborare con Venezia per creare un polo turistico e croceristico unico, senza entrare in competizione. Sarebbe questa la strategia vincente per fare del capoluogo Giuliano una città turisticamente attrattiva, secondo quanto emerso dal convegno che si è tenuto ieri al Greif, dal titolo Il Turismo, risorsa economica di Trieste, organizzato dai Lions Club Trieste Europa, dal Propeller Club e dalla Junior Chamber. Tema centrale del dibattito è i servizi marittimi, portuali e croceristici della nostra città, che potrebbero fare da volano all'economia, non solo in ambito turistico. Ma Trieste come può rendersi attrattiva agli occhi dei turisti? Sicuramente, come emerso nel corso del dibattito, mancano ancora infrastrutture e servizi di livello, anche se l'autorità portuale ha lavorato sull'azzeramento delle tasse sui passeggeri e sta pensando a nuove opere che garantiranno l'arrivo di navi di stazza sempre maggiore. Per rendere la città papabile turisticamente, secondo Antonio Paoletti, Presidente di Trieste, Terminal Passeggeri, è necessaria anche una diversificazione dell'offerta. Oltre alle crociere, infatti, andrebbero potenziati i traghetti e il turismo congressuale. E puntare alla sinergia con la città lagunare, attraverso nuovi collegamenti ferroviari veloci, già allo studio.